In questa lezione vogliamo risolvere il problema di Cauchy associato all'equazione omogenea. Ma prima riepiloghiamo il procedimento con cui si determina l'integrale generale di un'equazione differenziale lineare del secondo ordine ai coefficienti costanti omogenei. Sappiamo, innanzitutto, che le soluzioni formano uno spazio vettoriale di dimensione 2, ed è quindi sufficiente determinare due soluzioni y1 e y2 linearmente indipendenti, per ottenere tutte le altre soluzioni come combinazione lineare di y1 e y2. Come si determinano due soluzioni linearmente indipendenti? Si scrive prima di tutto l'equazione caratteristica associata all'equazione differenziale, ovvero l'equazione algebrica di secondo grado aλ² più bλ più c uguale a 0. E se ne trovano le soluzioni. Se chiamiamo Δ il discriminante dell'equazione caratteristica, possiamo riassumere le possibili situazioni in questa tabella. Nel caso Δ positivo, y1 e y2 sono due funzioni esponenziali associate alle due soluzioni λ1 e λ2. Con Δ uguale a 0 abbiamo e alla λ1t e t per e elevato a λ1t, mentre con Δ minore di 0 possiamo scrivere le due soluzioni come prodotto tra un'esponenziale e una funzione trigonometrica. Di conseguenza, l'integrale generale nei tre casi sarà una combinazione lineare di y1 e y2 al variare di c1 e c2 in R. L'integrale generale, che rappresenta la totalità delle soluzioni dell'equazione differenziale, dipende da due parametri arbitrari. Per ottenere un'unica soluzione occorre imporre delle condizioni iniziali del tipo y uguale a y0 e y' uguale a v0. Stiamo chiedendo che ad un certo istante t0, y e y' assumano i valori assegnati pari a y0 e v0. Risolvere il problema di Cauchy, costituito da equazione differenziale più le condizioni iniziali, ha un significato fisico ben preciso. Significa determinare la legge con cui varia nel tempo una certa grandezza fisica y di t, come ad esempio la posizione di un punto materiale in movimento su una retta, sapendo che il movimento del punto è governato da leggi descritte dall'equazione differenziale e che in un certo istante iniziale t0 il punto si trova nella posizione y0 e ha una velocità v0 nota. Vediamo un esempio. Risolviamo il problema di Cauchy formato dall'equazione differenziale e dalle condizioni iniziali al tempo t0 uguale a 0. Ricordiamoci che grazie al teorema di Cauchy il problema ha soluzione, è unica ed è definita su tutto r. La prima cosa da fare è risolvere l'equazione differenziale, quindi dobbiamo scrivere l'equazione caratteristica associata λ² più 2λ più 5 uguale a 0, le cui soluzioni sono λ1 e λ2, il delta è negativo, come potrete verificare, sono complesse coniugate meno 1 più 2i e meno 1 meno 2i. A queste soluzioni corrisponderanno due soluzioni dell'equazione di partenza, u1 coseno di t uguale a e alla meno t coseno di 2t e u2 di t uguale a e alla meno t seno di 2t. Grazie al teorema di struttura scriviamo l'integrale generale come la combinazione lineare di u1 e u2, quindi y di t uguale a e alla meno t per c1 coseno di 2t più c2 seno di 2t. Ora bisogna trovare per quali valori di c1 e c2 sono soddisfatte le condizioni iniziali. per farlo consideriamo la prima condizione su y e calcoliamo y in 0, quindi y di 0 uguale, sostituiamo 0 a t e alla 0 per c1 coseno di 0 più c2 seno di 0 e quindi è 1 per c1 coseno di 0, c1 più 0. Quindi la prima condizione ci dice che y0, cioè c1, deve essere uguale a 1. Allora scriveremo c1 uguale 1. Occupiamoci adesso della seconda condizione iniziale, y' di 0 uguale a meno 1. per farlo dobbiamo calcolare prima di tutto la derivata prima di y, quindi y' di t uguale, adesso valutiamo y' in 0 uguale a meno 1 per c1 più 0 più 1 per 0 più 2 c2. quindi la seconda condizione sarà y' di 0 uguale a meno 1, quindi meno c1 più 2 c2 uguale meno 1. risolviamo questo sistema e otteniamo c1 uguale 1 e c2 uguale 0. ora siamo pronti per scrivere la soluzione del problema di Cauchy, avendo trovato c1 e c2 che soddisfano le condizioni iniziali. quindi sostituiamo all'interno dell'integrale generale e otteniamo y di t uguale e alla meno t per c1 coseno di 2 e t più 0, quindi coseno di 2 e t. questa è la soluzione del problema di Cauchy. 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 la soluzione del problema di Cauchy.